E chiudiamo questa puntata con un video emozionale del nuovo titolo di Peugeot e una carrellata di storia. Il nuovo titolo di Peugeot e una carrellata di storia. Il nuovo titolo di Peugeot e una carrellata di storia. Il nuovo titolo di Peugeot e una carrellata di storia. Il nuovo titolo di Peugeot e una carrellata di storia. Così finiamo questa puntata numero 32 del 2017 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima sempre in questa rete e a questo orario. Grazie e arrivederci.